Stasera nei ristoranti del Buon Ricordo cena benefica per i colleghi emiliani colpiti dal terremoto a Vicenza fra poco il corso sull'export del vino a Roma la cena a Lucano Campana del ciclo Fratelli Coltelli e a Sorrento la cena benefica che apre il mese delle giornate gastronomiche che proseguono domattina con la consegna dei premi Villani